ciao allora oggi vi voglio parlare di questo prodotto del libro che si tratta del contorno occhi idra vegetal gel fresco anti borse e un 15 ml io l'ho completamente finito e ho segnato il prezzo che è di 9,95 a prezzo pieno ma è scontabile quindi lo prendo sempre con gli sconti almeno del 40 per cento allora questo prodotto dice di essere è un prodotto anti borse ed effettivamente è fresco è proprio un gel fresco che comunque vedete che io ho proprio finito quindi da qualche parte c'è lo swatch comunque sia è bello fresco ha una texture in gel che si picchietta bene assorbe molto velocemente va benissimo anche come base trucco io lo applico mattina e sera alla sera perché ne metto un pochino di più e va a idratare bene il contorno occhi attenzione è un prodotto idratante quindi non fa antirughe anti e tanti segni idratante che in estate mi va benissimo mentre la mattina ne applico un pochino meno però massaggio picchietto si assorbe immediatamente e lo posso usare anche dopo ti metto sotto al trucco tranquillamente quindi mi è piaciuto oltretutto essendo un gel e se lo metto in frigo fa anche un effetto fresco quindi alla mattina decongestiona soprattutto le borse mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto e sicuramente io dico che per il periodo estivo lo riprendo perché adesso non so se ha qualche indicazione oltre fatto che su cotonocchi non me lo irritano alla rossa non tende a farlo tirare quindi lo idrata bene e poi a questo effetto fresco si dice di essere un cotonocchi rivitalizzante e anti borse quindi fa quello che promette io sicuramente per l'estate questo qua ve lo consiglio oppure se non avete particolari esigenze dei cotonocchi se lo volete idratante e per le borse è perfetto se no durante il resto dell'anno se volete è un anti rughe anti segni d'età un prodotto un pochino più corposo ma con il caldo è perfetto l'ho già detto che è perfetto quindi io questo qui sicuramente ve lo consiglio e straconsiglio perché è davvero molto valido fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video ed è alla prossima ciao